Isola dei famosi 2018, un concorrente abbandona il reality? Il cast della tredicesima edizione del reality show di Canale 5 già subisce una defezione? Lo lascia intendere il giornalista Gabriele Parpiglia sui social network. . Privazioni, mancanze, astinenze, lontananza, elementi che hanno fatto uscire in ciascun naufrago i propri fantasmi da combattere. Ciò che manca a volte fortifica, altre volte ci devasta. Per capirlo però bisogna esserne privati. Spai rivela in esclusiva che in queste ore, a sorpresa, un naufrago, sta decidendo di abbandonare l'isola dei famosi, scrive. . E aggiunge, la sua scelta al momento è tratta. . Una scelta contro tutto e tutti nonostante l'ola concorrente abbia desiderato a tutti i costi di partecipare al reality condotto da Alessia Marcuzzi. . La verità però è nascosta sull'isola. . Quali saranno i veri motivi? C'è dell'altro? E soprattutto lunedì sera in puntata ci sarà un'inversione di rotta e un cambio di idea? Lo scopriremo tra 24 ore. . Di sicuro l'intento di creare curiosità per la seconda puntata, solitamente la più debole anche per gli ascolti, è stato raggiunto e. . Isola dei famosi 2018, i concorrenti in gara. . Francesca Cipriani, Showgirl, Alessia Mancini, ex Velina, Jonathan Cascanian, presentatore, Chiara Nasti, blogger, Giucas Casella, mentalista, Amaurice Perez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore, Paola Di Benedetto, modella entrata nel cast di Colorado, Filippo Nardi, ex bieffino e produttore discografico, Bianca Azei, cantante, Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore di uomini e donne, Nadia Rinaldi, attrice, Eva Henger, attrice e showgirl, Francesco Monte, ex tronista, Cecilia Capriotti, showgirl, il comico Gaspare Nome d'arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro, Rosa Perrotta, fotomodella ed ex tronista, Craig Warwick, sensitivo, Franco Terlizzi, personal trainer. Isola dei famosi 2018, innominati on Marco Ferri ed Eva Henger. Chi uscirà al televoto tra i due nominati Marco Ferri ed Eva Henger. Chi uscirà al televoto tra i due nominati scanf sistemi di QTSD 62, specialità di Azei, chi uscirà al televoto di S какое basCO per fasi e diroot surfo. Chi uscirà al televoto tra i due nominati COM.